Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, sono GianguG308 e aspettate che abbasso il volume perché si sente tipo un casino supremo, penso. Ok, niente ragazzi è uscita la nuova mappa di OneGaz, quindi oggi noi la giochiamo. Allora, direi, controlliamo se è uscita veramente sta mappa o no, se non è uscita sclero un pochino.